Si aspettano provvedimenti ora per lo studente di 15 anni che venerdì mattina nell'istituto commerciale Enrico Cenni di Vallo della Lucania ha sparato alla professoressa in aula con una pistola a pallini. Fortunatamente la docente che lavora sul sostegno, un ragazzo disabile, non ha riportato danni visto che i pallini l'hanno colpita solo di striscio. E' stata proprio la professoressa a fare scattare l'allarme dopo essersi ripresa dallo shock iniziale. In immediato l'intervento dei dirigenti dell'istituto della vicenda sono stati avvisati sia i genitori del ragazzo ritenuto responsabile e quelli di altri giovani coinvolti. La pistola infatti è stata trovata nello zaino di un compagno, ma dalla ricostruzione fatta il secondo ragazzo il risultato è strano ai fatti. La professoressa colpita non ha presentato ancora denuncia, resta da capire se saranno presi provvedimenti nei confronti dello studente responsabile. Ancora da chiarire il movente del gesto che ha lasciato però la comunità sbigottita purtroppo ciò che è avvenuto a Salerno è solo uno degli episodi che richiama quelli già accaduti in altri istituti italiani come l'episodio di Rovigo, fatti che una volta potevano essere archiviati come ragazzate ma di questi tempi in cui i giovani sembrano non riconoscere i limiti della civile convivenza rappresenta un ulteriore campanello dall'Aqui.